Lidia Alessandra Laura, dalla consegna dei pasti al caffoncello, alle pulizie, alle poste o nelle scuole, donne lavoratrici finite nella trita carne del sistema degli appalti, dove le condizioni di lavoro vengono rinegoziate in continuazione e sempre a ribasso, dove gli stipendi al netto sono da fame, dove sei condannato a vivere nella precarietà. Ci ritroviamo a dover accontentarsi di una settimana di ferie, con la spendi review ci hanno ridotto l'orario di lavoro a cui ci siamo adeguato, in quanto dopo tre anni finiti gli ammortizzatori sociali abbiamo dovuto ridurci l'orario di lavoro e anche ristabilire una turnazione diversa, perdendo dei riposi e quindi potendo stare meno con le nostre famiglie. A me è stato anche chiesto di salire su scale, su cose che io non posso fare, però poi ti tocca farlo a volte perché poi vieni, tra virgolette, ricattata, hai paura di perdere il lavoro, se un lavoro si può chiamare. Una situazione denunciata dalla CGL con forza, proprio alla vigilia della festa dedicata alle donne, perché la maggior parte dei lavori negli appalti spettano proprio a loro. Per i servizi e il turismo il contratto è bloccato da quattro anni. Ci sono dei casi però in cui, al di là del contratto nazionale, vengono applicate tipologie di contratto che non sono riconosciuti dalle principali organizzazioni sindacali, quindi arriviamo anche a 4-5 euro lordi poi da applicare la tassazione. Quindi qua il problema è effettivamente avere una retribuzione dignitosa per un lavoro dignitoso. La condizione della donna nel lavoro è l'indicatore del grado di civiltà e progresso di un paese. La CGL domani sarà in prefettura per tornare a chiedere una data certa per i due referendum popolari per il lavoro. È una battaglia doppia quella che noi portiamo avanti e penso sia un'ottima occasione quella che abbiamo per ribadire direttamente dalla voce delle lavoratrici qual è la situazione del lavoro oggi in Italia.